Palermo Sampdoria, il playoff ragazzi, la prima sfida di questo playoff di serie B chi ci arriva meglio? Dati a confronto, statistiche, analisi e poi valutazioni e poi in un altro video faremo chiaramente il pronostico finale prima di partire però vi invito sicuramente ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto perché qui sul canale di Burchiaro il campionato di serie B lo trovate nel quotidiano e poi c'è chiaramente tutti gli altri format che riguardano sempre il football quindi like, iscrivetevi al canale e condividetelo con tutti i tifosi che conoscete Palermo, come dicevo ieri, il rosa, eccolo qua, il blu, il blu della Samp noi andiamo su un bianco neutrale, ma rimane allora, chi ci arriva meglio? In forma ci arriva meglio la Sampdoria però questa non è un doppio confronto è una partita secca, il Palermo ha due risultati su tre nei 120 minuti nelle statistiche stagionali il Palermo ha fatto 62 gol subiti 53 la Samp ha segnato un po' meno 53 gol, quindi 9 gol meno e ha subito 50 gol quindi 3 gol di meno per quanto riguarda la differenza di reti del Palermo più 9, Samp più 3 cosa c'è da dire sul rendimento delle due squadre per quanto riguarda in casa che in trasferta allora, il Palermo in casa ha vinto 8 partite fuori casa 7 pareggiate 4 fuori casa 7 e ha perso 7 partite in casa e 7 fuori casa ha perso tante partite il Palermo in stagione perché se si va a vedere il Palermo ha fatto 12 sconfitte sono tante per una squadra come il Palermo e ha vinto solo 15 partite cioè nelle squadre dei playoff ha vinto meno partite soltanto il Brescia per quanto riguarda invece le statistiche della Samp Doria è stata una squadra che ha avuto anche lei come il Palermo il miglior rendimento fuori casa quindi un po' diciamo ecco squadre da questo punto di vista dei dati un po' strani la Samp in casa ha vinto 7 partite pareggiate 4, perse 8 ha perso tanto in casa la Samp fuori casa ha perso soltanto 5 partite le pareggiate 5 e vinte 9 per quanto riguarda il discorso del gioco il Palermo in casa ha segnato 33 gol fuori casa 29 subiti 27 in casa e subiti 26 fuori casa quindi un dato abbastanza in equilibrio la Samp fuori casa ha segnato 25 gol e subiti 25 quindi in perfetto equilibrio fuori casa ha segnato un pochino di più 28 e subiti 25 quindi la Samp andamento lineare però questo discorso che in trasferta ha segnato un pochino di più potrebbe essere di buon auspicio per quanto riguarda il discorso chiaramente di andare a cercare di vincere al Barbera è una Samp che arriva molto molto in forma perché se poi si guarda il rendimento degli ultimi mesi della Sampdoria è stato un rendimento dove sicuramente è cresciuto dal punto di vista del gioco dal punto di vista del possesso palla delle occasioni create di aver trovato un gioco corale sicuramente nel girone di ritorno la Sampdoria è cresciuta molto da questo punto di vista invece c'è stata un'involuzione per quanto riguarda il Palermo da questo punto di vista nel girone di ritorno è chiaro che l'ultima vittoria sul campo del Sud Tirol rilancia un po' la situazione del Palermo un Palermo che comunque ci si aspetta tanto perché poi se si va a guardare anche il discorso degli investimenti per quanto riguarda il Palermo io ho preso anche dei dati che sono sicuramente importanti ci fanno riflettere sulle ambizioni della società rosa-nero il Palermo ragazzi ha speso più di tutti in questa serie B ha tra entrate e uscite ha uno sbilancio un segno o meno di quasi 16 milioni di euro quindi gli investimenti del Palermo dal punto di vista di campo non sono stati sicuramente ad oggi non danno ragione alla società rosa-nero vuoi per un discorso dell'allenatore vuoi per un discorso che non gioca nella loro posizione di forma fisica che si sono arrivati a gennaio non si sono ancora ambientati in un calcio comunque complicato come quello della serie B vuoi tanti fattori vediamo se Mignani riuscirà comunque ad invertire tutto questo discorso vuoi che però gli investimenti stagionali del Palermo soprattutto chiaramente per lo scarso rendimento nel giro di ritorno a gennaio non hanno funzionato però i giocatori sono forti perché poi è arrivato Diakite è arrivato Traorè è arrivata La Nocchia insomma tutti i giocatori sicuramente di spessore per quanto riguarda la Sampdoria la Sampdoria invece tra spese e tra entrate e uscite ha un più 11 quasi quindi questo ci fa capire sicuramente l'intelligenza della società della Samp cosa ci fa capire il Monte Ingaggi il Monte Ingaggi ci fa capire che la Sampdoria è prima per Monte Ingaggi cioè la Sampdoria paga tanto i propri calciatori perché so sono giocatori che comunque sia la Samp forse da questo punto di vista in qualcosina è stato sbagliato dal punto di vista questo gli do devo dire sicuramente quella che è la situazione la Sampdoria ha un po' sbagliato ha comunque sia dare troppo ingaggio o comunque a non riuscire a diminuire questa spesa che è notevole per quanto riguarda il Palermo è ottavo quindi da un punto di vista di spese e ingaggi il Palermo sicuramente da questo punto di vista si può può essere soddisfatto cosa si può andare a vedere in altri dati per quanto riguarda queste due squadre per quanto riguarda appunto il Palermo se andiamo a vedere ragazzi quello che poi sono stati i tiri totali del Palermo sono 466 se si prendono comunque sia le squadre di alta classifica per esempio il Como ha tirato 522 volte se si va a vedere il Parma ha tirato 542 se si va a vedere il Venezia ha tirato 517 sono squadre che hanno tirato tantissimo per esempio la Cremonese è la squadra che ha tirato più di tutti e ha tirato 628 volte quindi ci fa capire che il Palermo da questo punto di vista delle problematiche della costruzione del gioco un po' quello che si è visto durante tutta la stagione poi ecco dal punto di vista che magari può avere più precisione o meno questo comunque va detto che il Palermo per quanto riguarda questo discorso ha avuto anche una buona precisione per quanto riguarda quello che ha creato perché poi va a calciare circa 12 volte a partita verso la porta 4 volte trova lo specchio quindi questo 4 volte e mezzo circa trova lo specchio quindi questo ci fa capire che comunque una squadra che è là davanti è anche cinica per quello che costruisce per quanto riguarda la Sampdoria ha calciato si prende i dati a confronto leggermente meno del Palermo 4 tiri totali soltanto in meno ma è una squadra che trova meno la porta perché poi 147 dei tiri totali sono andati a finire nello specchio mentre 168 del Palermo che è una squadra più precisa infatti la media a partita è più bassa per quanto riguarda la Sampdoria quindi questo ci fa capire che il Palermo è una squadra più cinica è una squadra più che quello che riesce a creare lo capitalizza meglio è una squadra se così vogliamo dire più pronta secondo me e quindi questo oltre che al fatto che questo dato questa statistica oltre al fatto che comunque sia ha due risultati su tre è una statistica importante bisogna tenere conto anche a questo e sicuramente poi Mignani secondo me è un allenatore che se il Palermo darà tempo è un allenatore sicuramente capace è un allenatore che poi il bel gioco te lo trova quindi secondo me il Palermo ha fatto davvero una scelta intelligente per quanto riguarda Mignani dall'altra parte il lavoro di Pirlo è ottimale la crescita dopo è una crescita esponenziale ha trovato veramente un gruppo propenso al lavoro nel quotidiano a volersi migliorare a sapersi mettere a disposizione entrambe le squadre hanno una tifoseria fantastica sono squadre sicuramente da un blasone storico importante questo secondo me ci fa capire quanto sarà bella questa partita sono chiaramente due percorsi differenti quello di Mignani a Palermo quello di Pirlo con la Samp sicuramente tutte e due le squadre hanno meritato di arrivare nei playoff comunque il Palermo nella prima parte di stagione ha offerto un calcio secondo me buono e in virtù del fatto di quello che si era costruito è riuscito ad ottenere il piazzamento playoff e anche la Samp per come è cresciuta ha meritato questo piazzamento sesta contro settima chiaramente il Palermo ha due risultati su tre questo è un po' quello che poi è emerso per quanto riguarda dati, statistiche curiosità a confronto e io ecco vi dico di ditemi la vostra cosa ne pensate like iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e mi raccomando ragazzi condividete il video con tutti i tifosi che conoscete questo è un po' uno scontro dal profumo storico chiaramente di serie A grazie a tutti